Dario Daroitte, per i prossimi due anni continua questo matrimonio con l'Abba Pineto Volli? Sì, è un matrimonio molto importante. Sono contento di essere rimasto e aver avuto la fiducia della società, del Presidente di Guido Abbondanza e di tutto quanto lo staff, perché credo che questa sia una società che deve ambire a traguardi importanti. E per ambire a questi traguardi bisogna comunque programmare un qualcosa a medio e lungo termine. Per cui il mio percorso è iniziato con loro due anni fa. Quest'anno c'è stato un momento in cui sembrava che le strade dovessero dividersi, invece poi mi sono reso conto che era giusto e importante continuare a cavalcare il sogno che questa società ha nel cassetto, che è quello innanzitutto di salire il prima possibile di categoria e poi magari perché un domani sognare ancora un po' più in grande. Quindi l'obiettivo è salire subito o se non ci si riuscisse subito magari in due anni? Sì, ma guarda, se senti i capi ovviamente dobbiamo salire subito, questo ci sta. No, io credo che sia importante innanzitutto provare a fare un campionato bello come quello dell'anno scorso che poi ci ha visti arrivare in semifinale play-off e uscire contro Motta di Livenza che poi è salita in A2. Congratulazioni comunque sempre a loro. Come dicevo prima, è una squadra completamente diversa perché l'anno scorso era una squadra molto molto giovane quindi con momenti importanti a momenti un po' meno perché la gioventù purtroppo è sinonima di alti e bassi. Quest'anno invece abbiamo cercato di creare un mix di ragazzi molto giovani che sono magari alla prima esperienza per essere un campionato come questo insieme a ragazzi importanti come Bertoli, comunque un giocatore importante che arriva da due campionati di alto livello e altri giocatori che devono dare quella impronta che servirà ai ragazzi giovani per crescere e a loro per dare appunto, come ti dicevo, una base di partenza per il prossimo anno. La cosa che mi fa molto piacere è che finalmente il campionato di A3 è un campionato che interessa non solo ad atleti di alto livello ma anche a sponsor e investitori che hanno cominciato a capire che non è una serie B riciclata ma comincia a essere una vera serie A con una lega di appartenenza che ha giocatori importanti.